18 buche stable for handicap e 3 categorie, gara di sputata oggi. I premi sono stati gentilmente offerti dall'azienda vinicola Cantanici di Gaiola e Inchianti. Il primo risultato è rappresentato dalla signora Angela Butini. E al tavolo di generazione il dottor Maurizio Di Tomassi che è il consigliere del Golf Club Puntana. Grazie mille. Primo signore Mario Camarda con 35 punti. Mario una foto. Perfetto. Prima nella categoria Sanore, Maria Del Rey con 31 punti. Brava, 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 molto bene. Brava. Perfetto. Nella terza categoria handicap da 25 a 36, terzo netto Giorgio Ferrari con 33 punti. Bravo. Secondo netto di terza categoria Lucia Bianchi Maiocchi con 33 punti. E' andata via. E' andata via, è partita. brava. Primo netto di terza categoria e la seconda categoria handicap da 15 a 24, terzo netto Matteo Sevaffin con 35 punti. Bravo Matteo. secondo netto Enrico Albini molto bene bravo vai e primo netto di seconda categoria Maurizio Di Tommasi 29 punti perfetto nella prima categoria Enrico fino a 14 terzo netto Giovanni Italia con 30 punti bravo ma non sa che partite 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 non ce ne lo mettiamo da parte si si poi lo diamo nel secondo netto Silvestro Ottonelli bravo Silvestro bravo Silvestro perfetto anche il primo netto purtroppo mi sembra che non ci sia Enzo Progi con 36 punti bravo Enzo è andato via mi sembra e il primo nel nord Massimo Cozzi con 30 punti bravo Massimo bravo Massimo perfetto perfetto bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti